Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono GLSI Gaming e oggi siamo qui con una schermata molto particolare Tanto, tanto particolare, qui è il mio, questo è il mio profilo E potete vedere questa Shelly al grado 25, 25 Che praticamente ho avuto la pazzia di portare questo prole al 25 Sapete come? Non pushando i brawler da 7 e da 10 Cioè, boh, ragazzi, non lo so neanche io E sapete a che posizio sto? 119 in Italia con Shelly Con Shelly, sto stendo sulla mia sedia bella Che non vi voglio far vedere Perché, ma aspettate, ma ha 18.000 coppe Vabbè Intanto Questo qui è il mio clan Il mio nuovo clan e dopo vi spiegherò perché Un saluto a tutti quanti i membri del mio clan Se volete entrate abbiamo 52.000 coppe complessive Se volete entrare mi fate un favore Vabbè Adesso vi devo spiegare perché Il mio account GLS Youtuber Non sarà più accessibile da me Almeno da me Perché Quell'account non era collegato al Supersalidi E allora che cosa è successo? Il telefono ha deciso casualmente di risucchiai tutti i dati Tutti quanti i dati Di Brawl Stars e di tutto il resto Tra tutti gli account sono riuscito a recuperarli Ma Brawl Stars non si è salvato Purtroppo Brawl Stars non si è salvato e quindi E quindi purtroppo ho perso il mio account Da 12.000 trofei 12.000 trofei di record Adesso sono a 6.000 Ho fatto la metà del lavoro E quindi direi di andare a fare qualche partita con Beryl Perché con 8bit non mi ci ritrovo Quindi se siete nel mio vecchio clan Ovvero i GLS Uscite e entrate nel clan De GLS Team Ok c'è qualcuno che mi sta guardando Da Ems Ems Ho già sbagliato ragazzi Ho già sbagliato Benissimo Ho sbagliato tutto ragazzi Ho sbagliato Sono un nappo Va bene Potete dirlo eh Sono un nappo Non mi offendo Basta che non mi insultate Perché è un nappo Lo insulto Non lo so E anche io Perché io non insulto mai la gente Buona volta Vabbè Visto che non voglio lancare Andiamo a vedere un pochino di BroTV Sono già 3 minuti passati Il tempo passa veloce Ok il team rosso sta vincendo per 1 a 0 Probabilmente lo hanno perso Addirittura se la spin Don't give up Se lo dici tu frate 857 coppe Oh mio dio Io non voglio neanche sapere quante coppe perdono Andiamo avanti Questi due hanno Beryl e Carl E Carl è un domatore di cinghiali Ah giusto per sapere Dove sta il team Che dobbiamo guardare Noi Ok Leon e Spike Ma scusate ma Berna 68 Non l'ho già visto da qualche parte Vabbè X-Symmetric Sì Ok ci sono sti due Quattro squadre rimaste Siamo in più o meno mille In BroTV Siamo in mille F-T-F-F-F-G-H-T-M-X Ma ci fatevi un nome decente Però per favore Floorbed Al Mario Insamini Mario Vabbè L'ho detto malissimo Però in mezzo è avvenuto chissà cosa Eeeh Niente Vabbè Al Mario che sta facendo Nei movimenti Mamma mia L'ha usato In tempo giusto Soltanto che si è andato a finire nel cespuglio Di Di Dynamite E' strano da dire Perché è un Leon Di Berna 68 Di Dynamite Scontro finale Vabbè Almeno sono salvati dal Dall'umiliante Meno 10 Perché a queste coppe Fare meno 10 è possibile E' come se è possibile Non l'ho testato io però Ho visto che si può fare meno 9 Al grado 24 Raga Perché vi è successo Ok Seconda posizione hanno fatto più 6 Quindi si Il meno 10 lo facevano Ok Partita appena iniziata OS Sub-Zero Io ti ho già visto da qualche parte Sei tra i primi in Italia Con Di trofei Era Tra i primi in Italia Poi Il Il Come si chiama Il Re del Stagione L'ha rovinato No raga Davvero Sto dicendo qualcosa di sbagliato Scusatemi Ma Ho una memoria corta Ok Uh Ha aperto Sub-Zero ha aperto una bella Ha fatto una bella apertura Poi Loro non la porta ancora difesa Ok Spike tira la ulti Tristan Ma anche Tristan L'avevo già visto da qualche parte Se non mi sbaglio Oh mio dio Che bello sto tricciot Come hanno segnato Raga Mi vergogno a sapere Di come hanno segnato Va bene Tristan intanto Penso che muoia Non muore Managgia te Va bene Mi google Trova Va che nomi sono Questi nomi Dei fighi Dei fighi Se fai una bella Se fai un'altra apertura Può andare bene Ha segnato Bene 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 1 a 1 A me piace reagire alla Brawl TV E fare qualche volta il tipo per qualcuno Effettivamente Adesso non dico che sto Che sto antipatico Che Che alcuni giocatori mi stanno antipatici No per carità anche perché non li conosco Boom E' assegnato Sub-Zero 2 a 1 Hanno vinto loro Fanno più 6 Al posto di più 8 Raga E' brutto da vedere Fidatevi Ok adesso cos'è Stella Solitaria Ho sentito che Stella Solitaria La rimuoveranno Rimuoveranno Stella Solitaria E io sono contento ragazzi Io sono contento perché Stella Solitaria Mi fa schifo Così come caccia il boss Fanno entrambe schifo Effettivamente Oddio E se vabbè Che sto da di Bea da Da 4 stelle Che muore Poi Qui abbiamo Una marea di kill Ok Noi dobbiamo tenere d'occhio Darkseid Donut Donut Banana Man Lol Pro XD Raga Questa cosa di chiamarsi pro Non è mai passata Di moda Che non Non sarei mai uscita Non è che non è passata La mappa sarebbe anche bella Per esempio Per una Per una sopravvivenza Per la sopravvivenza singola E la sopravvivenza duo Peccato Un pocio con Con Star power Della ulti Che fa danno Ah Comunque Io non Vi ho fatto vedere In video Quando c'è stata La sfida Su Brawl Stars La championship Io ho fatto 5 vittorie E 3 sconfitte Perché Ho fatto l'errore Di giocare Con i Random Ho fatto l'errore Di giocare Con i random Appunto Quindi Ho vinto Soltanto 5 partite E poi Perde tutte e 3 volte Su quella Sulla quella Sesta partita Vabbè Io penso che Non ha vinto Eugenio Però ha fatto Sesto posto Peno 3 Raga Ma L'animazione Di Eugenio Raga L'animazione Di Eugenio Quanto cavolo È brutta Cioè A me A me Non mi piace Sono caduto Ancora Stella solitaria Vabbè Basta Guardare Bro TV 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 Ma che sono Oggio Vabbè E dire che Per questo video È tutto Spero che Vi sia piaciuto E vi ricordo Che Ho perso L'account Da 12.000 Coppe Purtroppo Non ci potevo fare Niente Anzi Ci potevo fare qualcosa Potevo Semplicemente Fare questo Dannatissimo Super Salidì E non pensarci più Va bene E quindi Direi Che Per questo video È tutto Se vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Con un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti